Ok Marco, ti farò sapere se funziona. Non ho avuto il tempo di testarla. Tu provala, al massimo me la riporti. Ok, perfetto. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusami, posso chiedere a cosa sta pensando? Cioè, lei desidera un bambino? Lei di fuori? No, è che... Scusami, mi faresti una fotografia? Certo. Grazie. Grazie mille. Prego, ciao. Oh, ci togliamo. Bye, bye, dai. Ci vediamo domani. Ciao. 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 Buona sigaretta. Ci conosciamo? No, ma pensavo che volessi una sigaretta. Ti sembrò stressata? E comunque ho smesso di fumare da poco. Ma... No, ma pensavo... E comunque non èступi un estcato che... E infogų... E infog donné scegliere da poco suliane, però nella canale di 뉴스 ciò. E infoggins... Di Statesi cazun, Ehi, aspetta, 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 aspetta. Che fai? Mi spii? Ehi, no, volevo offrirti questo gelato, so che lo desideri. E tu che cosa ne fai che quello che desidero io? Allora è vero che mi spii? No, ero qui per caso, sul serio. Sì, sì, certo. Comunque volevo restituirti i soldi del gelato. Ciao, buon pomeriggio. Ehm, ma non... Ciao, buon pomeriggio. Scusa? Ehm, non volevo spaventarti, ero incuriosito dal tuo stesso quadro. Ehm, ti va se facciamo due passi insieme? Guarda, io devo andare a lezione, se vuoi puoi accompagnarmi. Ehm, effettivamente non ci siamo neanche presentati. Paolo? Piacere, Paolo. Sono Carlotta. Ma tu vai sempre in giro con quella strana macchina fotografica? Beh, ormai è diventato il prolungamento dei miei occhi. E poi è speciale. E che cosa avrebbe di speciale? Ti mostra i desideri della gente. Andiamo un po'? Bene. Ah, allora funziona davvero. Ehm, così sembra. Beh, senti, forse è meglio averlo scoperto adesso, no? Sì, in un certo senso. Senti, io devo andare. Comunque è stato un piacere, ci vediamo in giro, no? Ehm, sì. Ciao. Vabbè. Ciao. 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 Ciao.